Non c'è nessuna ragione perché al ritorno di me sono riuscita a sopravvivere fino a questo momento. Bisogna che faccia attenzione. Non sarebbe straordinario se ritornasse, sarebbe normale. Bisogna che faccia attenzione a non fargli un avvenimento straordinario. Lo stagio è d'atteso. Bisogna che sia ragionevole. Aspetto, Roberto, che devi tornare. Pronto? Pronto? Ci sono notizie? Nessuna notizia? Niente? 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 Cosa ne pensa? Comincio a essere inquieto. Lo so. Da luce le piscosi. Arrivederci. Riposo la colletta. Non mi sono spostata. Non bisogna fare troppi movimenti. È tutta energia persa. Bisogna tenere le forze per il supplizio. Le liste dei nomi arriveranno domani mattina. Bisogna scendere, comprare il giornale, leggere la lista. No. Sento, alle tempie, un battito che è sempre più forte. Non leggerò questa lista. Sono tre settimane che ho provato il sistema delle liste. Non è quello adatto. Più liste ci sono, più ne appaiono. Nemmeno nomi ci sono e ne saranno fino alla fine. Lui non ci sarà mai. Se sono io che la leggo. È andato il momento di muoversi. Scusa di fare qualche passo. Scusa di fare qualche passo.